Era una tappa bella, turissima e è andata via una fuga grandissima. Questo non era neanche un problema, mi ha fatto un po' nervoso, ma alla fine è andato bene. Noi abbiamo fatto secondo con Caldallo, mi sembra che Badalind e Vardiani ha vinto. Senti, due terzi di giro, che bilancio inizia a fare? Fino ad adesso non abbiamo vinto, così non possiamo essere contenti. Andiamo avanti. Un bocca al lupo. Un bocca al lupo.